Ben trovati a una nuova puntata di Metropolis a cura della redazione del mensile tra i tutorimini economia supplemento del settimanale. Il ponte si avvicina alla nuova stagione nonostante il metro ancora abbastanza ballerino allora accogliamo l'occasione per tornare a parlare di turismo, le prospettive per il settore in vista della stagione 2016 gli investimenti promozionali ma anche un bilancio dei numeri degli ultimi anni sia in questa provincia che nelle altre mette turistiche concorrenti italiane e straniere di tutto questo parleremo insieme al presidente di Rimini Reservation Ivan Gambaccini che salutiamo, buonasera e bentrovato e con noi anche il presidente di Teamwork Mauro Santinato, buonasera e saluto Mirko Paganelli giornalista del mensile tra i del ponte. Buonasera Alessandra. Bentrovato Mirko, allora direi di partire subito con numeri concreti, quelli relativi non solo all'ultimo anno per quanto concerne il turismo della provincia di Rimini ma anche uno sguardo più a lungo raggio. Sentiamo il contributo del direttore di Tre Primo Silvestri. Abbiamo registrato nel 2015 un aumento degli arrivi e un lieve aumento delle presenze, 1,5% circa. Siamo sui 3 milioni di arrivi circa e 15 milioni di presenze. Allora qual è il problema? Il problema è che gli arrivi aumentano e questo sicuramente è positivo ma il numero delle presenze, cioè questo numero, 15 milioni, è fermo ormai da quasi 10 anni. E questo è un problema quando nel mondo, compresa l'Europa, il turismo, gli arrivi internazionali crescono a ritmo di 3-4% l'anno. Quindi dimostra che noi non riusciamo ad attrarre, a captare questa nuova offerta di turismo che c'è nel mondo. E questo ha un costo molto elevato perché abbiamo calcolato che, voi immaginate che negli anni 80 avevamo circa 6 milioni e mezzo di presenze fatte da turisti stranieri. Oggi si sono quasi dimezzate. All'epoca rappresentavano il 38%, oggi rappresentano il 23%. Questo vuol dire una perdita, queste 3 milioni di presenze in meno, che non sono state completamente compensate dagli italiani, è una perdita di circa 240-250 milioni di Euro. Il calcolo è molto semplice, basta moltiplicare 3 milioni per una spesa media giornaliera di 80 Euro e si arriva a questo conteggio. Avere meno presenze non vuol dire, non lascia indifferente nemmeno il tema del lavoro. Voi immaginate che per esempio nel 2012 gli avviamenti al lavoro nel turismo erano circa 55 mila, oggi alla fine del 2015 sono diventati 44 mila, cioè in poco più di 4 anni, 3 anni abbiamo perso quasi 10 mila avvii al lavoro. Non sono persone perché gli avvii al lavoro sono diverse, però sono diverse miliardi di persone che non trovano più nel turismo un'opportunità per integrare il proprio reddito o al limite per viveci tutto l'anno. Ecco, tra l'altro un'integrazione di questa indagine del mensile 3 in uscita sul numero del 5 maggio, di cui diamo un'antiprima, la troviamo anche sul sito del Ponte. Mirko, citaci giusto un altro paio di dati. Sì, infatti vi invitiamo tutti a andare a vedere, tra l'altro ricordiamo che gli articoli di Trano ha una nuova sede nel sito del Ponte, per cui vi invitiamo a consultare il ponte.com nella sezione Tutto Rimini di Economia dove trovate tutte le nostre inchieste e appunto stranieri che sono sempre di meno rispetto ai fasti degli anni 70, tanto come ricordava il nostro direttore Primo Silvestri. Quanto sono i pronotamenti annuali oggi in Riviera, a Rimini? Sono 15 milioni e 4, però se ricordiamo, come si ricorderanno magari qualche d'uno più maturo, negli anni 70 le presenze straniere erano di 5,4 milioni nel 70, mentre oggi sono scese a 3,5. L'altro confronto interessante da fare è con la media nazionale, infatti se a livello nazionale gli stranieri sono il 50% dei turisti totali, da noi sono il 23%, per cui come diceva appunto il direttore Primo Silvestri non siamo riusciti ad agganciare i viaggiatori globali come riesce a fare mediamente il nostro paese, quindi insomma questo è il contesto di partenza. Ecco Santinato, partirei con lei, quali criticità vive questo territorio? Vive delle criticità che hanno una origine lontana, probabilmente alla nascita del modello romagnolo che per tanti anni ha avuto successo sui mercati europei, nord europei e oggi sconta un po' tutti i suoi limiti fisiologici di caratteristiche di offerta sostanzialmente. Se negli anni 60 avevamo un'offerta adatta per una domanda nuova di turisti nord europei che non avevano tutte le alternative che hanno oggi e riuscivamo in qualche modo a soddisfarli e a compensare i limiti strutturali, dimensionali di offerte e di servizi con la grande capacità di ospitare, di essere accoglienti, ospitali, mettendosi al servizio del turista, oggi questi limiti sono venuti un po' al pettine di tutti i nodi di questo sistema di offerta un po' obsoleta perché è stata pensata e concepita appunto negli anni 60. Dobbiamo ripensare completamente al modello, per troppi anni abbiamo sentito dire che il modello tiene, il modello tiene, un po' forse a voler mascherare i problemi che ci sono, un po' forse a voler rimandare delle decisioni strategiche di come ripensare un po' al futuro di questa destinazione. Siamo un distretto maturo che non riesce più ad avere una PIL sui mercati internazionali, potremmo aggiungere tante altre considerazioni al calo dei numeri delle presenze, però anche l'esercizio statistico di fare i confronti sugli arrivi e presenze ha un suo limite di lettura, non ci dice quello che realmente è il dato che interessa agli operatori e alle imprese, cioè il dato relativo alla reddittività di queste imprese. Quindi capacità del turista di spendere? Capacità del turista di spendere e soprattutto di risultati economici delle imprese. Noi prendiamo sempre come riferimento gli arrivi e le presenze che siano sì degli indicatori, dei macro indicatori, ma non ci dicono quanto poi questi arrivi producono, queste presenze producono in termini di fatturati per le imprese, perché se noi come avrete visto in questi giorni confrontiamo i presti di vendita delle camere di 10 Euro potremmo anche avere un aumento delle presenze, ma sicuramente avremo un calo del fatturato. Un'altra considerazione che mi sento di dover fare rispetto alla statistica ufficiale è che noi guardiamo il fenomeno del turismo prendendo in considerazione il movimento complessivo del turismo come esempio, come metafora, un iceberg, per cui quelle che erano le presenze di 20 anni fa o di 30 anni fa, che erano la punta di un iceberg, oggi questo iceberg sta emergendo, ma non significa che sta aumentando, quindi anche a parità di numero di presenze denota, visto e considerato che sta emergendo questo iceberg per tutta una serie di motivi che non sto qui a sottolineare, non stiamo aumentando, ma stiamo semplicemente facendo emergere quello che magari prima era sotto il livello del mare. Oltre questo oggi non c'è più una reddittività vera delle imprese. Ok, ma ci torniamo. Ritornando sempre ai dati degli stranieri, tra l'altro vi rinvitiamo a consultare il sito di Tre sul portale del Ponte. Gammacini, per quanto riguarda i turisti di lingua tedesca che hanno sempre costituito una fetta di mercato importante tradizionalmente per il nostro territorio, però anche loro sono venuti a mancare o perlomeno sono diminuiti negli anni e si attestano oggi a circa 240 mila visitatori sul totale dei turisti della provincia di Rimini e i vari enti di promozione turistica del nostro territorio hanno investito parecchie risorse quest'anno in una campagna per promuovere il marchio Romagna nei paesi di lingua tedesca, quindi Svizzera, Germania e Austria. In particolare un milione di Euro in spot televisivi su vari canali tedeschi e 250 mila Euro in banner su Google e YouTube per avere pubblicità mirata verso questo potenziale bacino di utenza. Ci vuole parlare di questo espediente, quanto è importante riagganciare un mercato tradizionalmente familiare al nostro territorio? Certo, partiamo dai dati del vostro direttore, effettivamente nel 2015 rispetto al 2014 c'è un calo di presenze e di arrivi degli stranieri. Questo calo è dettato fondamentalmente dal calo dei russi che è stato per il 51% negli arrivi e il 50% nelle presenze, compensato parzialmente dall'arrivo dei tedeschi che è aumentato invece del 3% e delle presenze che è intorno al 5%. Non solo tedeschi, svizzeri, austriaci, francesi che l'anno scorso hanno avuto un incremento sopra il 10% e anche inglesi, ma partiamo praticamente da zero, quindi incrementi al 20% non dicono quasi nulla. È chiaro che dal momento che il nostro primo mercato, che era quello dei russi fino a qualche anno fa, cala del 50% in 3 anni, ogni 3 anni del 50% dobbiamo investire sugli altri mercati e il mercato di lingua germanofona è ovviamente il mercato che ci interessa storicamente di più. Proprio per questo con Regione Emilia-Romagna e APT abbiamo pensato in una campagna che si rivolge alle famiglie e racconta finalmente il marchio e il brand Romagna. È un marchio che è conosciuto in Germania, è conosciuto in Austria, è conosciuto in Svizzera, noi lo vogliamo fare con un linguaggio nuovo, con un linguaggio moderno. Non possiamo però dimenticarsi che noi non possiamo chiudere le nostre frontiere, i nostri arrivi alla sola Europa. Il problema secondo me è un problema anche di Sistema Italia, nel senso che dal momento in cui il numero di viaggiatori nel mondo cresce esponenzialmente e ci sono tutti i mercati dell'Est e del BRICS per capirci a disposizione, qui c'è un problema che non è semplicemente un problema di destinazione turistica, ma c'è un problema Italia. Facciamo un ragionamento molto semplice, la Francia investe in promozione turistica per l'Italia, solo sul mercato italiano, quanto l'Italia investe in tutto il mondo. Allora è chiaro che se noi non siamo in grado come Enit, come Italia, di andare a pescare, a intercettare quei flussi turistici della Cina, del Brasile, dell'India, del Sudafrica, di quei paesi emergenti che in questo momento incominciano a avere reddito e sono in grado di spenderlo, è chiaro che è difficile poi poter continuare una crescita di un certo tipo. Ecco, quindi si chiede anche un appoggio a livello nazionale, oltre che locale, nella promozione. Direi proprio di sì. Ecco, ci sono già stati dei primi riscontri per quanto concerne questa campagna sui tedeschi, c'è chi ha un attimo puntato il dito sulla cifra dicendo un milione di Euro, non è che sia una cifra eccessiva, considerando che il mercato dei paesi di lingua tedesca è sceso negli anni e quindi oggi copre il 7% del turismo provinciale. Allora, la cifra è una cifra comunque importante, stiamo parlando della cifra investita dalla regione Emilia Romagna, è una cifra che viene investita per 3 anni, quindi c'è un volano che si sta mettendo in moto per poter ottenere dei risultati che necessariamente non potranno essere da un giorno all'altro, ma devono essere frutto di una strategia che è continuativa, fare 5 spot in televisione in Germania una settimana non produce nessun risultato, lavorarci per 3 anni riteniamo che possa dare dei risultati positivi, anche perché la destinazione Romagna è una destinazione che in questo momento sta facendo molti passi avanti anche per cercare di proporsi in un modo diverso, non semplicemente mare, ombrellone e albergo, ma cerchiamo anche noi come Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di vendere il territorio, di vendere la storia, l'enogastronomia, le passioni, le emozioni che questo territorio è ancora in grado di trasmettere ai turisti. Santinato, molto velocemente perché sentiamo un alto contributo, i tedeschi, si parlava prima di redditività, il gioco vale la candela in queste campagne promozionali? Sicuramente va dato atto allo sforzo che la Regione Miglior Magna, l'APT, il sistema regionale sta facendo su questo mercato, il tentativo di recuperare quote che ha perso ormai più da 25 anni, perché dimentichiamoci che il tracollo e il calo significativo delle presenze sul mercato tedesco coincide con gli anni delle mucillagini, da quegli anni noi non siamo più riusciti a tornare ad essere competitivi su quel mercato, il mercato tedesco ci ha praticamente messo una croce sopra e forse non abbiamo più nemmeno le caratteristiche in termini di prodotto capace di generare una pille, è vero che quando parliamo di Emilia Romagna parliamo di un territorio vasto, forse Rimini in questo caso ha più difficoltà rispetto ad altre località che offrono un contesto ambientale migliore per l'interesse del mercato tedesco, ho qualche dubbio sul fatto che facendo solo promozione si possa vendere un prodotto che oggi ha dei limiti, come dicevo prima, il marketing ci insegna che prima di promuovere un prodotto bisogna averlo e il prodotto deve incontrare i bisogni e le aspettative del mercato. Allora parliamo un attimo di questo prodotto perché c'è un altro contributo del nostro direttore Silvestri sul tema del turismo balneare, sentiamo. Probabilmente la nostra offerta turistica balneare è diventata meno competitiva e qui un problema non è solo locale perché anche nel Veneto, nelle spiagge venete si sta registrando la stessa cosa dove nell'ultimo periodo le presenze turistiche balneari sono diminuite, invece sono aumentate moltissimo le presenze nelle città turistiche, nelle città artistiche, soprattutto grazie agli stranieri che tra l'altro spendono anche di più, spendono 110-120 euro. A questo punto ci dobbiamo porre la domanda, ma è il turismo balneare che attira di meno da noi e dappertutto? No, non è così perché in Spagna per esempio il turismo cresce a ritmi abbastanza sostenuti, 3-4% l'anno anche lì e nella costa brava, Catalogna ed intorni, l'anno scorso è aumentata del 3,5%. Allora dobbiamo farci la domanda, come mai i turisti diciamo che vogliono il mare vanno in Spagna e non vengono nella costa adriatica? Presidente Gabaccini, quindi siamo meno attrattivi, quale giustificazione si dà a lei su questa differenza di numeri rispetto alle presenze degli stranieri nel nostro territorio, rispetto ad altre mete? Io non credo che siamo meno attrattivi, io credo che la verità, sta nel fatto che dobbiamo incominciare a proporci in un modo un po' differente, porto un esempio che secondo me è calzante, non più tardi di una settimana fa abbiamo fatto l'inaugurazione del visit center in centro a Rimini che parla della Rimini romana, la Rimini romana è qualcosa che il 25% dei turisti che arrivano ai Rimini conoscono e l'altro 75% non conoscono, se noi siamo in grado di far conoscere anche quello che è la nostra storia, quindi il fatto che c'è un arco trionfale, un ponte che ha 2000 anni e una storia che passa in questa città attraverso i Romani, il 300 riminese piuttosto che le suggestioni di Fellini, forse siamo in grado anche di comunicare qualcosa di diverso e diventare non solo una città balneare ma una città turistica che è l'obiettivo che Rimini si deve porre. Santinato, com'è cambiato il turista oggi? Teamwork si occupa di consulenza e formazione alberghiera, quindi questo è sicuramente un tema che vi è caro, cosa chiede oggi il turista rispetto a quel modello che ci ha resi forti ma che forse oggi non vale più di cui parlavamo prima? Sicuramente non chiede più un semplice posto letto, non chiede più una giornata in pensione completa come eravamo abituati a vendere le vacanze negli anni 60 e 70. Oggi come diceva il Presidente Gambacini chiede di vivere un territorio, di vivere un'esperienza in questo territorio, di scoprirlo, di conoscere le unicità, di conoscere soprattutto quello che in qualche modo distingue un territorio che va a visitarlo ma lo vuole vivere più che vedere. Da questo punto di vista ci sono delle grandissime opportunità che il nostro territorio, la nostra area può offrire a mercati nuovi, mercati emergenti. Gambacini prima parlava dei mercati BRIC, noi pensi che in poco più di 50 km abbiamo tre siti UNESCO ma che nessun operatore fa o confezione un prodotto mettendo insieme Urbino, San Marino e Ravenna creando un'offerta, un prodotto di forti contenuti culturali. Siamo abituati purtroppo a guardare soltanto il nostro turismo da voltando le spalle verso l'entroterra guardando il mare. Il prodotto mare Italia, probabilmente un prodotto maturo un po' ovunque, anche se ci sono delle località, noi lavoriamo in tutta Italia e in particolare anche sulle spiagge venete, soffrono molto ma molto meno rispetto al nostro territorio. A livello di appille le spiagge venete riescono a lavorare molto di più con tutti i mercati nord europei e internazionali. Eppure il mare è quello? Il mare è assolutamente quello. Quindi è una capacità comunicativa che cambia? Noi abbiamo perso quella capacità di essere innovatori come lo eravamo negli anni 60 e 70. Il modello romagnolo è stato esportato, è stato preso come esempio per tantissimi anni perché in questa realtà sono state inventate tantissime cose nel turismo e si parla addirittura della scuola di Rimini. Abbiamo perso negli ultimi 20 anni, 25 anni questa capacità di innovare. Quei dati che faceva riferimento il direttore Silvestri prima sulla capacità di innovare delle imprese è un dato significativo. Non c'è stato più un ricambio generazionale, non c'è stato più quel coraggio che hanno avuto i nostri pionieri, i nostri padri fondatori del turismo negli anni 60 che avevano il coraggio di guardare al futuro, di investire, di firmare cambiali e di aspettarsi un futuro migliore ogni anno che sarebbe arrivato. Oggi c'è una situazione di grande incertezza imprenditoriale, di grande sfiducia nel futuro, non ci sono investimenti, quando non c'è investimento un settore non progredisce, quindi non stiamo cogliendo quella crescita che dal punto di vista della domanda c'è in tutta Italia e in tutto il mondo, si faceva riferimento ai mercati. Meno di un mese fa, il primo di aprile a Riccione abbiamo organizzato un workshop sul mercato cinese. L'atteggiamento della stragrande maggioranza degli operatori romagnoli è di setticismo, di rassegnazione, di certo tanto da noi non verranno mai perché i cinesi non vanno al mare. Sono pregiudizi, c'è un atteggiamento di sconfitta o negativo a prescindere, non si cerca di scoprire o di conoscere i mercati. Fare marketing significa andare sui mercati, poi magari uno decide di non lavorare con un mercato, ma non si può a prescindere dire non mi interessa quel mercato o non valutarne le potenzialità. Quando 25 anni fa sono cominciati ad arrivare i primi russi in Romagna, nessuno avrebbe mai potuto pensare che sarebbero diventati il primo mercato turistico straniero e invece di meno di 20 anni abbiamo superato tutti gli altri mercati. Abbiamo perso la nostra dimensione internazionale. Rimaniamo ancora un attimo sull'internazionalizzazione, però in Europa perché un altro segmento di turismo estero che è andato un po' calando negli ultimi anni è quello del turismo britannico, sentiamo un altro intervento. Da noi per esempio gli inglesi, i turisti inglesi sono quasi scomparsi quando negli anni 80-70 del secolo scorso erano piuttosto numerosi. Ultimamente sono usciti anche dal nostro deputato Tiziano Allotti dei numeri che lo dimostrano un po' in maniera… danno una piccola spiegazione, cioè il fatto è che i grandi tour operator per esempio hanno bisogno di prenotare centinaia di camere. La dimensione media dei nostri alberghi, delle nostre strutture ricettive è molto piccola. Per mettere insieme mille camere bisogna mettere insieme 10-15 hotel e questo capite che non è semplice. Ecco, tra l'altro sempre a proposito di turismo britannico e di pochi giorni fa la notizia pubblicata sul portale di News Rimini che titola turismo britannico occasione persa perché c'è stato praticamente la Gran Bretagna promosso, tre colossi del turismo britannico Thompson, Monarch e Air Tours, Thomas Cook hanno promosso varie destinazioni europee che però sono al 75% divise tra Spagna, Grecia e Turchia, l'Italia è poco presente e comunque è presente soltanto col Veneto, la Campania, la Sicilia e la Sardegna. Quindi insomma sempre per ricordare che anche quello dei britannici è un possibile mercato sul quale c'è di sicuro margine di crescita nel nostro territorio. Mentre per quanto riguarda il tema degli alberghi, poi dopo vi rilancio i temi per sentire le vostre considerazioni, secondo un'indagine della provincia di Rimini del 2015, si parlava prima del poco spirito innovatore degli albergatori di oggi della provincia di Rimini e secondo questa indagine, secondo la metà delle imprese del turismo, quindi di alberghi, ristoranti eccetera, la metà appunto non ha introdotto alcuna innovazione negli ultimi tre anni in provincia di Rimini, dunque si sente poco l'esigenza di innovare come è emerso da un'altra inchiesta, dell'indagine dell'osservatorio di Union Camere sul turismo del 2015 dove dice che il 25% degli operatori locali pensa che riqualificare la struttura non sia essenziale, quindi insomma sono dati che fanno riflettere chi parte. Parto io. Ma ci sono delle considerazioni importanti da fare secondo me in questo tema, anche alcune che possono sembrare un po' scomore, ma penso valga la pena farle. Un primo dato su cui ragionare, comune di Rimini, quasi il 50% degli hotel sono gestiti e non sono più i proprietari che sono in affitto. Quindi la proprietà probabilmente ha goduto per anni di rendite di posizioni senza fare innovazione e le gestioni spesso hanno un turnover molto veloce, per cui è anche difficile poter pensare che con un turnover molto veloce ci sia anche innovazione di struttura e questo è un limite grosso che si sente meno in alcune città sempre della provincia di Rimini come per esempio Bellari, Cattolica e Riccione, perché in questi casi il numero di hotel in affitto, di strutture in affitto è molto minore rispetto a quello di Rimini. L'altra considerazione secondo me importante è dettata dal fatto che per fare internazionalizzazione occorre fare anche una trasformazione, una digitalizzazione del turismo, cosa che a mio avviso non è stata fatta completamente o come si doveva fare, nel senso che ormai avere un sito internet che funziona, un booking engine che produce risultati, che converte le visite in prenotazioni, avere la presenza per esempio negli organi istituzionali come Rimini Reservation o l'equivalente degli altri comuni che danno un minimo di visibilità è diventata un'esigenza fondamentale e molte strutture, le più piccole, quelle che comunque magari soffrono di più nel mercato, sono quelle che in questo momento non prendono quasi in considerazione l'idea di rendere la propria azienda anche digitale, con internet, con anche le Olta perché ci mancherebbe, anche le Olta hanno diritto di esistere, di fare il loro lavoro, si ha la possibilità di farsi conoscere worldwide, cosa che altrimenti con i mezzi di marketing tradizionale non si è più in grado di fare. Senza poi considerare i social, i grandi portali, TripAdvisor, tutta la gestione 2.0. Non volevo arrivare così avanti, la dotazione di base non è sufficiente. A tale proposito ho un aneddoto personale simpatico, una volta chiese ad un albergatore di Rimini perché non aveva il sito internet, perché non voleva proporsi su piattaforme più innovative rispetto al volantinaggio e mi ha risposto se vuoi parlare con me e non lo fare attraverso l'email, lo devi fare manualmente come si faceva una volta. Spero sia stata l'eccezione che conferma la regola, però a quanto pare c'è veramente ancora uno zoccolo duro di persone difficili da convincere, da convertire alla digitalizzazione, Santinato. Credo che il problema della digitalizzazione sia solo la parte terminale del problema più in generale, nel senso che qui c'è un problema di ricambio generazionale, come dicevo prima, c'è un problema di età media degli imprenditori, un dato di una ricerca fatta proprio da Promozio alberghiera un po' di anni fa, sull'età media degli albergatori era superiore ai 55 anni. In provincia? No, sulla città di Rimini, la percentuale di alberghi in gestione era più alta di tutta la provincia, quindi anche quel concetto dell'ospitalità romagnolo oggi non è neanche più possibile sostenere, la teoria delle tagliatelle che faceva il fattore di marketing principale degli anni 70, perché dove si mangia bene come da noi non si mangia bene da nessun'altra parte, o un duo di chi vaga allo slogan degli anni 80 che si diceva dopo che vanno a provare un anno da un'altra parte e poi tornano qua perché qua da noi si sta bene. E invece? Il problema di digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica è solo una parte, purtroppo noi abbiamo cercato di fare stare insieme due elementi che in economia non possono stare insieme, perlomeno dare dei risultati positivi, piccolo, piccolo e a presti bassi. Ecco questo se uno ha poca capacità produttiva, poche unità da vendere non le può vendere a presti bassi perché non ci sono i risultati, siamo riusciti a superare questa teoria economica per molti anni a far sì che tante pensioni, tanti piccoli alberghi riuscissero a stare sul mercato vendendosi a presti stracciati, oggi questa questione non è più possibile. O si fa un salto, si fa un salto di sistema, un salto generale delle imprese, oppure credo che nei prossimi anni noi assisteremo un'ulteriore perdita di appeal di questa destinazione. Vi porto, siccome il titolo della trasmissione è Ombre sul turismo, vi porto un paio di dati così giusto su cui riflettere in generale. Il numero degli alberghi dagli anni 80, che si era raggiunto il massimo numero di alberghi, di esercizi alberghieri, se non ricordo male, 1750, i primi anni 80, siamo scesi a meno di poco più di 1900, sto parlando del comune di Rimini. In questo calo, quasi la metà degli alberghi, noi abbiamo perso quindi la metà dei posti letto, della trasformazione. È vero che alcune strutture sono diventate trasformate in residence, però abbiamo perso capacità produttiva. Perdendo capacità produttiva, quello che rimane in termini di capacità produttiva, doveva, se abbiamo fatto lo stesso numero di presenze, doveva significare che avremmo quasi raddoppiato l'occupazione di queste unità, quindi di questi posti letto. In realtà non è così, come dicevo prima, il discorso della punta dell'iceberg, ma oltre a questo, noi abbiamo avuto un calo della reddittività di queste imprese perché i prezzi di vendita sono scesi negli ultimi 10 anni, negli ultimi 15 anni, quindi allo stesso numero di presenze non corrisponde allo stesso fattorato. Se questo si ripercuote poi sulla disponibilità di investire nell'impresa stessa. Di quale è diminuita la reddittività? C'è un dato percentuale? Possiamo fare delle stime, ma sicuramente parliamo di un 20-25% in meno di quello che è la reddittività di un tempo legato magari ad altri fattori che non stiamo qui a sottolineare. Se questo è vero, significa che gli alberghi non hanno più grandi margini ed è testimoniato dal fatto che ci sono alberghi all'asta, ci sono alberghi in vendita che non si riescono a vendere, che rispetto a 10 anni fa, oggi nemmeno alla metà di quello che era il valore rispetto a 10 anni fa. Oltre a questo non si aprono alberghi nuovi. Allora in un contesto, in un settore, in una realtà turistica, non si aprono alberghi nuovi, significa che non c'è propensione o non c'è in quell'area. come dire, reddittività. Citando le località venete, noi lavoriamo moltissimo in Veneto, lavoriamo moltissimo a Jesolo, negli ultimi due anni a Jesolo hanno aperto 2-5 stelle. 2-5 stelle ce n'è già un terzo in progetto. La stagionalità e la reddittività dell'impresa, parità di numero di camere, Jesolo, ha un fatturato più alto rispetto a Rimini del 30-35%, quindi significa che questo si traduce in poi in margini. Oltre a questo anche a livello regionale, sulla riviera radriatica, sulla riviera armagnola, Rimini ha reddittività più basse. Gli stessi dati di Rimini Reservation che controllano gli uffici di informazione da Cattolica a Bellaria, i ricavi medi delle vendite delle camere di Rimini sono mediamente 20 euro in meno rispetto a Riccione. Cosa significa questo? Significa che è un problema di prodotto, cioè il nostro prodotto non ha pill. Quando sento dire c'è la guerra dei presti, non dobbiamo fare presti del genere, il problema non è più il presto, il problema è il prodotto, perché certi alberghi, certe camere d'albergo anche 10 euro sono troppi e quindi non c'è più un problema di rapporto tra qualità del prodotto e presto. Non dovrebbero più stare sul mercato, si dovrebbe favorire un processo di riqualificazione facendo che cosa? Cercando di far uscire queste strutture marginali che non hanno più logica e favorire quelle imprese invece che vogliono rimanere sul mercato aiutandole, dandogli magari dei premi, dandogli delle agevolazioni, favorendo chi vuole ancora fare l'imprenditore e investire. Ecco, dovremmo agire sulla leva imprenditoriale di chi decide di continuare a fare questo mestiere ancora per i prossimi 20 anni o 30 anni. Ecco, ci ha già lanciato l'assist su quello che sarà il prossimo tema, quello dei prezzi stracciati, ma pazientate un attimo perché è un minuto di pubblicità e poi siamo di nuovo qui. Bentrovati, continuiamo a parlare di turismo in Riviera e allora in particolare affrontiamo il tema dei prezzi stracciati, già accennato prima della pausa pubblicitaria, hanno fatto recentemente scalpore, ma non è il primo caso, alcune richieste ai limiti dell'assurdo agli alberghi riminesi di prezzi veramente al ribasso dai 10 ai 11 Euro di pensione completa da richieste fatte da tour operator italiani e stranieri per giovani e gruppi provenienti dall'estero o da altre parti d'Italia in arrivo sul territorio questo mese proprio per eventi o per appuntamenti sportivi. Allora sentiamo a tal proposito la Presidente di AIA Rimini, Patrizia Rinaldi, intervistata dai colleghi della redazione di Icaro TV. Intanto è una querel che ormai è iniziata da molti anni, io sollecito gli alberghi a comunicarmi queste proposte che sono veramente indecorose. La vicenda dopo la scuola che sono uscita sui giornali dicendo che comunque non era importante quello che gli si dava da mangiare, quindi contro questi appalti che sono veramente a ribasso l'ultimo era questo gruppo di studenti, tra l'altro tutti i laureandi bosniaci che vengono qui a trascorrere in due turni, vengono a trascorrere circa dieci giorni sul nostro territorio sia per sport sia per conferenze ed altro, solo che mi sono resa conto che i prezzi che giravano erano di 11 euro lordi in pensione completa e tra l'altro dando per scontato che l'imposta di soggiorno non si capiva bene chi l'avrebbe pagata ma sicuramente non gli studenti. Quindi parliamo di un netto per gli alberghi intorno agli 8 euro, poco più di 8 euro se calcoliamo anche l'imposta di soggiorno. Ho parlato con il Comune che avrebbe dovuto dare i campi e abbiamo radunato intorno a un tavolo quelle che erano le agenzie coinvolte in questa operazione. Intanto il Comune mi ha dato una grossa mano che ha tolto la disponibilità gratuita dei campi, anche perché poi quello che abbiamo visto è che alcuni di questi alberghi non erano neanche in regola con quelle che erano le imposte comunali. Dopodiché abbiamo cercato di ritrattare un gruppo già confermato sul territorio, un gruppo che gli alberghi, il problema grosso è questo, hanno accettato già da dicembre dell'anno scorso, hanno accettato queste cifre. Con gli organizzatori, io mi sono sentita più volte, sarebbero stati disponibilissimi, e questo che bisogna capire, a pagare anche cifre più alte, ma un'agenzia ha offerto 17, un'altra ha offerto 11, 12, chiaramente sono andati con l'agenzia più bassa. Quindi il problema grosso è il nostro, che non dobbiamo assolutamente accettare, farci ricattare da certe proposte. E intanto l'altro mio messaggio è che dietro queste proposte difficilmente ci può essere, chiamiamola, correttezza imprenditoriale o un minimo di qualità del servizio. Questo per me è il problema più grosso, non possiamo assicurare l'editività, ma neanche quella correttezza che invece dovrebbe in qualche modo contraddistinguerci. Abbiamo quindi riparlato, cercato di ritarare tutto quello che era possibile, oltretutto ribadisco che le agenzie che se ne erano in qualche modo occupate hanno rinunciato senza un guadagno assicurato. Io ho contattato Rimini Reservation, che ha accettato a una cifra veramente irrisoria di riprendere in mano l'organizzazione di questo evento. Un evento che ribadisco già stato confermato sul nostro territorio, dove c'era già un numero di alberghi che avevano accettato questo. La contrattazione a quale siamo riusciti a portare a casa è stata circa un 50% in più, con un pagamento immediato, quindi presentazione, fattura, pagamento. Non è stata una bellissima operazione, ma almeno abbiamo assicurato qualcosa in più. Io quello che dico agli alberghi, basta, terminiamo con queste pratiche che veramente stanno diventando dumping sul nostro territorio. Alberghi non corretti, non professionisti del settore che operano in questo modo. È inaccettabile, dobbiamo ribellarci tutti. Io ho portato a casa un 50% in più a evento già concluso. Se riusciamo a intervenire prima, probabilmente avremo avuto delle cifre più decorose. La prevenzione, tutti noi continuiamo a sgolarci su questo. Abbiamo fatto un tavolo anche di coordinamento con gli organi di controllo. Io credo che dobbiamo impegnarci tutti, però quello che io vedo è che spesso molti albergatori, quelli che comunque continuano a comportarsi seriamente, mi mandano email dove dicono sotto certe cifre noi non ci andiamo. Mi raccomando, continua questa battaglia. Siamo noi, siamo soltanto noi. Poi io credo che gli organi di controllo debbano fare la loro parte, perché a 9 Euro non ci può essere nulla. Io lo ribadisco. Gambaccini, siete stati chiamati in causa dalla Rinaldis. Cosa fa i mini reservation per combattere questa piaga? Allora, sì, siamo stati tirati in causa proprio all'ultimo momento, quindi abbiamo cercato di recuperare una situazione che ormai era abbastanza compromessa. Come dice Patrizia, neanche noi possiamo ritenerci completamente soddisfatti, anche se un 50% in più rispetto alla proposta iniziale è comunque un qualcosa che va tutto a vantaggio degli albergatori. Rimini reservation in questo caso riprotegge l'evento e lo fa fondamentalmente per uno spirito di comunità, per dare un servizio alla nostra destinazione turistica. Io credo che sui prezzi bisogna essere molto seri e per poter avere dei prezzi che sono in linea con quelle che sono le aspettative degli alberghi, perché fare fatturate è importante, ma farlo senza redditività non serve assolutamente a nulla, cioè crea un problema ulteriore, quindi occorre da una parte chiaramente una competenza nella gestione aziendale, capire che il fatturate basta non serve, occorre fare anche margine. E noi cerchiamo di promuovere il nostro territorio e le nostre strutture turistiche agganciando da quella che è un'offerta che fa il territorio. Faccio un esempio banale che ha avuto la sua conclusione pochi giorni fa. Nell'occasione della maratona noi ci siamo preoccupati di organizzare insieme alla maratona di Rimini dei pacchetti che nel complesso potessero essere vantaggiosi, ma proprio perché noi avevamo assicurato una vendita di pettorali all'organizzatore della maratona per cui ci potevamo permettere nel mix di avere un prezzo competitivo, ma non a scapito dell'albergo e a scapito del costo che occorre sostenere per poter avere un servizio, per poter avere magari la collezione alle 6 di mattina e fare la doccia dopo la fine della maratona. Quindi si deve puntare sulla qualità del servizio con un collegamento con quello che il territorio mette a disposizione. Questo è un esempio, ma lo possiamo rivedere in altre stazioni, i bersaglieri l'anno scorso piuttosto che i grandi eventi del Comune di Rimini che comunque costituiscono un elemento di appeal e un elemento a cui ci si può agganciare un racconto e quindi tenere alto anche il prezzo delle strutture alberghiere. Santinato, prima di sentire anche il suo intervento però vorrei farle ascoltare l'intervento di Graziano Urbinati, il segretario generale della CGL di Rimini che è intervenuto sempre su questo tema dei prezzi stracciati e della qualità dell'offerta che poi ovviamente comprende anche l'occupazione, il tipo di mano d'opera che viene impiegata in questi alberghi. Sentiamo. Abbiamo il settore del turismo, un settore importante che se presenta una tenuta però ci consegna un lavoro che si è impoverito. Se in passato una stagione, una disoccupazione stagionale poteva comunque generare quasi un reddito, oggi questo non è più dato per le norme che sono cambiate rispetto agli ammortizzatori, appunto la disoccupazione. E dall'altro questo fattore esponenziale di utilizzo dei voucher che il lavoro vero e proprio non è, ma è il lavoro accessorio che non dà diritto per l'accesso a queste prestazioni oltre che essere un lavoro sfruttato e magari una foglia di fico per il lavoro nero. Delle cose in provincia, in particolare nella città di Rimini, sono state fatte nella idea di riqualificazione del territorio, di rigenerazione, di rimettere in competizione tutto il sistema e questa è cosa buona, cosa che noi abbiamo sempre evidenziato e sollecitato. Credo che bisogna passare alla fase 2, quella di dare valore al lavoro nella quantità di cui abbiamo bisogno, quindi creare opportunità di lavoro e nella qualità, cioè creare lavoro buono e non lavoro povero. Anche perché il lavoro buono, il lavoro pagato, il lavoro professionalizzato non ci espone a quei fattori come offerte di pacchetti a pensione completa a 12, 10 o a 15 euro, ma a un'offerta di qualità di cui abbiamo bisogno anche per non dequalificare appunto la nostra capacità competitiva e il nostro territorio. Credo che anche in ragione dell'indicazione che la legge regionale 7 rivisitata dà rispetto alla promozione dei brand non più singoli ma di area e quindi in questo caso parlo della Romagna, credo che ragionare anche in termini di aree più vaste possa essere un valore aggiunto, proprio per fare quella massa critica di cui una crescita, uno sviluppo sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sociale ha bisogno. Noi a tal proposito a fine maggio faremo un'iniziativa sui turismi che sono presenti in questa area, che è appunto l'area della Romagna, insieme a tutte le camere del lavoro che compongono questo territorio. Credo che debba essere anche un messaggio alla politica che vogliamo lanciare anche in previsione delle prossime elezioni amministrative. Il lavoro buono, come dice Urbinati, rientra nella qualità dell'offerta turistica alberghiera al Santinato, però anche su questo progetto ci sono delle problematiche. Non vorrei esprimermi sull'intervento di Urbinati, nelle problematiche che lui solleva, non mi compete, non mi interessa nemmeno esprimere. Vorrei tornare invece al problema dei prezzi e della battaglia dei prezzi. Noi lavoriamo in tutta Italia, lavoriamo dalla Sicilia a Livigno. Devo dire che nessun'altra località balneare, cioè a Sorrento, ad Amalfi, a Viareggio, a Santa Margherita Ligure, a Jesolo, come dicevo, ma nemmeno a San Benedetto del Tronto, in tutte le località dove noi abbiamo dei clienti ci sono questi problemi. Eventualmente è la conseguenza di una situazione che parte da lontano e che negli ultimi 20 anni in qualche modo il problema è diventato sempre maggiore. La domanda, la riflessione che voglio fare è questa. Se un'impresa riesce a produrre reddito, a produrre profitti vendendo a 10 euro, evidentemente ha trovato un modello di business decisamente interessante, riuscire a compromettere, a comprimere i costi, a gestirle in maniera, probabilmente in quell'albergo ci saranno dei computer, ci saranno dei robot, ci sarà grande tecnologia dove è riuscito a eliminare completamente forse il lavoro umano delle persone e quindi può permettersi di vendere a 10 euro. Io credo che però non sia così, nel senso che quella è una situazione che denota una disperazione imprenditoriale, cioè oltre a quello non c'è più nulla. Noi assistiamo ogni anno a un fenomeno degenerativo di tante gestioni improvvisate che arrivano e che poi abbandonano, che scappano, la maggior parte non locali, quindi gente che viene da fuori, da altre realtà, o addirittura in questi ultimi anni si è assistito anche al fenomeno di gestioni straniere, quindi proprio di Romagnolo non c'è più nulla. Ecco, quel genere di gestione sta producendo degli effetti devastanti, estremamente negativi. La domanda che io pongo, non lo voglio apporre, come dire, alla presentessa degli abbergatori che condivido le sue riflessioni, ma pongo forse anche alla politica. Che strutture sono quelle che riescono a fare 10 euro? Hanno i cosiddetti requisiti a norma? Sono gestite rispettando tutte quelle che dovrebbero essere le regole di un'impresa per stare sul mercato, ricollegandomi al ragionamento di Urbinati? Gestiscono in maniera corretta e precisa? Allora, siccome si conoscono e siccome si sa quali sono queste imprese che stanno sul mercato a queste condizioni, basterebbe fare qualche verifica, qualche controllo. In più, e probabilmente ci troveremo molti meno problemi, in qualche modo non è detto che noi dobbiamo avere per forza 900 alberghi nella città di Rimini, potremmo averne anche 600 e averli di qualità migliore e probabilmente di livello migliore. Come dicevo prima, non è che di più il tanto è meglio del poco, è sempre una questione di risultati. Probabilmente potremmo avere meno alberghi, ma di maggiore qualità e quelli che ci sono riescono a produrre e a generare anche il lavoro buono e a garantire una maggiore occupazione anche alle persone in queste imprese. Tra l'altro, l'analista di Trademark Italia, Avriliano Buonini, è molto severo sul tema. Lui sostiene che gli alberghi di Rimini sono troppo vecchi e l'aria condizionata e la piscina non dovrebbero essere degli optional, ma insomma qualcosa di ordinario da trovare. E riallacciandoci a questo tema, vogliamo introdurre il prossimo, che riguarda la differenza tra turismo alto e turismo basso. Questa definizione strana che tende a sottolineare come da più parti si sente l'esigenza per la provincia di Rimini di puntare ad un turismo più facoltoso, forse. L'abbiamo sentito l'anno scorso dall'uscente questore di Rimini. L'abbiamo sentito noi quando abbiamo intervistato Emanuele Burioni, direttore dell'APT Servizi sul tema del progetto Via Emilia, su cui poi dopo torniamo, che ha detto che stiamo puntando come APT Servizi alla ricerca di un turismo più alto e meno cheap, quindi meno basso per l'Emilia Romagna. Abbiamo infatti sempre puntato ad un turismo basso che ha fatto scendere il valore del nostro brand. Abbiamo tra l'altro anche raccolto testimonianze nel tempo di albergatori che sostengono come alcuni eventi, diciamo, alcune feste importanti del nostro territorio richiamino un turista che consuma poco sul territorio, un turista giovane che viene qua per divertirsi in nottate e poi ritorna a casa senza stare sul territorio a consumare. Dunque, lo chiedo ad entrambi, insomma. È un'esigenza che si sente quella di puntare su un turismo più elevato, più spendacione, in modo da farci guadagnare di più? Gambacini lo chiedo a lei per primo. Assolutamente sì, nel senso che l'obiettivo è quello di cercare di attrarre dei turisti che hanno delle possibilità economiche maggiori. Però così come citavi alcuni eventi che possono essere più indirittati a giovani e un turismo più cip, ce ne sono altri che invece qualificano il territorio locale. Mi viene in mente almeni, dove non credo che ci siano altri eventi in Italia, forse anche all'estero, dove 24 chef stellati si mettono a produrre dei piatti e a proporli alla clientela. Nello stesso evento tutti i prodotti di eccellenza dell'Emilia Romagna vengono proposti in un mercato all'aperto proprio all'Almeni. Quindi fondamentalmente se l'enogastronomia è un elemento importante per attrarre anche fasce di turisti più facoltosi, questo è un evento che indubbiamente va in quella direzione. Dobbiamo essere bravi a valorizzarlo e a venderlo. Mi viene in mente anche altri eventi che possono comunque portare turismo di qualità. Le fiere, per esempio, abbiamo delle fiere importanti e in occasione delle fiere importanti abbiamo anche dei visitatori che vogliono una proposta, un'offerta che sia in linea con le loro possibilità. Per cui anche un'attività che noi stiamo facendo come Rimini Reservation è quella di far scoprire il nostro centro storico ai turisti perché la qualità anche dei nostri negozi del centro storico, le boutique che ormai nelle grandi città stanno scomparendo sono un elemento che è comunque di attrattiva. Quindi l'idea è quella di ovviamente cercare di ponderare tra quello che è un'offerta e ovviamente anche per tutte le tasche con un'offerta un po' più di elite che magari può essere spalmata lungo tutto l'anno, non semplicemente nella stagione estiva. Santinato, lei cosa pensa? C'è bisogno di puntare ad un turismo più elevato e quanto è stato appoggiarsi su un turismo più basso? È stata una scelta fisiologica per il nostro territorio? È stata una scelta giusta, sbagliata? Cosa ne pensa? E quali possono essere anche gli esempi di turismo, di offerta che possono favorire un turismo più alto? Il dibattito sul turismo alto e basso mi fa un po' ridere, mi viene in mente l'altezza dei turisti se vogliamo i nordici, piuttosto che... è ridicolo, nel senso che cosa vuol dire? Qual è il turismo basso o qual è il turismo alto? Il turismo alto è quello che spende molto e quindi che fa coltoso e quindi che ha una forte propensione alla spesa e quindi è disponibile a pagare prezzi più alti e chiaramente va in un posto e compra prodotti di valore equivalente e quindi a Sorrento, a Positano, va a Capri perché c'è un prodotto che è equivalente, è in grado di offrire valore equivalente al prezzo richiesto. Noi non abbiamo questo, quindi non avendo un prodotto di valore e come dire, ci vendiamo a un prezzo più basso e offrendoci un prezzo più basso abbiamo un turismo più basso, ma è sempre l'offerta che genera la domanda nel turismo, non è il contrario, non è che trovando la domanda poi creiamo l'offerta, sembra un paradosso, sembra un controsenso, ma mi spiego meglio. Se oggi noi trovassimo anche un milione di presenze turistiche di clienti facoltosi, come lo volete chiamare, di turismo alto, riuscirebbero ad trovare il prodotto adatto alla loro capacità di spesa a Rimini? No, quindi è un problema di offerta, non è un problema di domanda. Il numero di milionari nel mondo è cresciuto in maniera impressionante negli ultimi anni, la ricchezza globale, mondiale. Il turismo di lusso non conosce crisi, negli ultimi 15 anni il numero degli alberghi 5 stelle è quasi raddoppiato, in tutta Italia sto parlando. Il turismo di lusso non conosce crisi e cresce. Nella città di Rimini ci sono due alberghi di lusso, due alberghi di lusso 5 stelle. Il Granotel è storico, 1908, e l'ultimo nato dai suite. Questo è già un indicatore, non c'è un'offerta per un turismo alto, e quindi per riqualificare il turista, il turismo, dobbiamo riqualificare per forza l'offerta che noi abbiamo. Se partiamo dall'offerta possiamo ragionare e fare tante riflessioni, tante considerazioni. Noi abbiamo perso l'idea stessa di prodotto, di destinazione, è un problema di identità. Per 30 anni siamo stati una località balneare, una città balneare se vogliamo, e non siamo riusciti a riposizionarci. Abbiamo infatti dei grossi investimenti in infrastrutture per cercare di dare una dimensione annuale. Abbiamo investito nella fiera, abbiamo investito nel Palacongressi, abbiamo fatto grandissime infrastrutture, forse le migliori di Europa, ma non abbiamo fatto un lavoro culturale per riuscire a pensare al sistema turistico, a ripensarsi ed avere un'idea di città turistica, al di là del balneare. Una città turistica è una città che ha i musei, che ha un'offerta culturale, che ha i negozi, che ha il ristorante, che si presta come destinazione per un short break, per una breve vacanza, motivazionale per venire. Noi avremmo tante chance ancora, ma non siamo riusciti negli ultimi 25 anni a riproporci come città turistica bella. Mi ricollego a questo, perché in occasione di Expo Milano 2015 è stato anche presentato il progetto Via Emilia, che aveva proprio l'obiettivo di dare un'identità precisa al territorio che passa attraverso la Via Emilia, che ha visto coinvolta in parte anche la provincia di Rimini. Allora, qual è il potenziale di questo progetto, secondo voi, Gambazzini? È un progetto assolutamente interessante, per due ragioni. Primo perché il turista non conosce i confini amministrativi, per cui se arriva a Rimini poi deve poter essere in grado di andare a visitare il Museo della Ferrari a Modena, piuttosto che andare a Bologna e magari visitare San Marino o Ravenna. Quindi fare sistema con tutte le altre città, dell'Emilia Romagna e non solo, è fondamentale, soprattutto se vogliamo intercettare quei flussi di turisti che vengono dall'estero. Il secondo motivo per cui è importante è perché la Via Emilia, oltre che raccontare la storia del nostro paese, è anche una strada che collega tutte le nostre eccellenze. Quella del food, e l'abbiamo citata più di una volta, secondo Forbes, l'Emilia Romagna è la regione dove si manca meglio al mondo, ma anche quella dei motori. C'è una fil rouge che collega la Ducati, la Ferrari, la Lamborghini, anche alle piccole realtà locali, come quelle di Rimini, che potrebbe essere la Viper, per esempio. Quindi c'è tutto un collegamento anche culturale su questo progetto. Assolutamente sì, nel senso che come ci stiamo proponendo all'estero, nelle fiere, è proprio cercando di mettere in evidenza quelle che sono le eccellenze che questo territorio è in grado di produrre e di raccontare per poi creare una suggestione e quindi attrarre dei nuovi flussi turistici. Ecco, però... Chiediamo un attimo un parere di Santinato. Dopo vi citiamo una frase. Credo che il progetto Via Emilia abbia l'ambizione di vendere la nostra regione, l'Emilia Romagna, con una prospettiva un po' più ampia di quello che è stato fatto finora, nel senso di valorizzare quegli elementi, quei brand conosciuti in tutto il mondo che possono creare un effetto traino per tutti gli altri prodotti, le altre destinazioni. Io viaggio molto per lavoro, domani sono in partenza per gli Stati Uniti, sono stato in Cina diverse volte. Quando devo presentare dove abito, difficilmente riesco a far capire dove Rimini, devo dire vicino a Venezia o il più delle volte dico vicino alla città della Ferrari. Ecco, magari non sanno nemmeno che la Ferrari è in Italia, ma quando dico Ferrari la conoscono tutti. Allora, l'idea secondo me estremamente positiva è anche geniale per certi aspetti, di costruire un prodotto orizzontale che parte da Piacenza e arriva a Rimini con dei contenuti in termini di appille, perché parliamo di enogastronomia, abbiamo il meglio del meglio, parliamo di motori, ma parliamo anche di arte, parliamo anche di entroterra, parliamo di un territorio bellissimo, perché come dicevo prima, noi siamo sempre abituati a guardare la nostra destinazione, la nostra città con le spalle rivolte verso l'entroterra. Basterebbe girare, girare le spalle al mare, e guardare quello che abbiamo. Abbiamo una scoperta di un territorio dell'entroterra da parte dei cicloturisti che vengono a pedalare e stanno qua una settimana e che rimangono colpiti dalla bellezza del nostro entroterra. È chiaro che poi abbiamo dei problemi di strade, di manutenzione delle strade che creano degli effetti negativi come esperienza, ma abbiamo tanti plus, abbiamo tanti plus. Dobbiamo cambiare mentalità. Qui non è più un problema di risorse, di disponibilità, di finanziamenti e altre cose. C'è un problema di visione. Dobbiamo tornare ad essere innovativi come sono stati appunto i nostri padri negli anni Sessanta che hanno probabilmente inventato il più bel modello turistico al mondo, ma che dopo 40 anni necessita di una profonda ripensamento, come dire, una profonda riprogettazione. Per concludere il discorso sul progetto della Via Emilia, siccome magari in tanti si stanno domandando a che punto siamo con questo progetto, visto che da un anno che è partito, però molti albergatori che abbiamo sentito ancora non conoscono nei dettagli di che cosa si tratta. E allora l'abbiamo chiesto al Presidente, sempre al Direttore di APT Servizi Burioni, Emanuele Burioni, che dice che appunto siamo ancora alla fase della promo commercializzazione e che finora hanno risposto bene dal punto di vista della pubblicistica, quindi dal punto di vista della presenza di questo progetto sui quotidiani all'estero, hanno risposto bene i paesi anglosassoni, infatti si è parlato di questo progetto su Forbes, Sunday Times, è stata invitata la BBC a Bologna a fare, penso, un reportage sulla città, insomma si cerca con questo progetto di farsi conoscere e di agganciare un segmento ancora non molto familiare col nostro territorio e in concreto di che cosa si tratterà l'abbiamo chiesto sempre a Burioni che risponde abbiamo redatto uno dei disciplinari per ciascuno dei cluster del progetto Via Emilia che sappiamo appunto essere diviso nei tre cluster del food, wellness e motor, quindi cibo, benessere e motori, ai quali tutte le strutture che facendo rete lavoreranno a questo progetto si dovranno attenere dagli hotel ai musei alle aziende agricole, quindi insomma è un progetto molto ambizioso che vuole mettere a sistema tante realtà imprenditoriali diverse del nostro territorio che forse fino ad oggi non erano abituate a lavorare assieme, quindi insomma continuiamo ad osservare con grande attenzione questo progetto. Allora direi visto che siamo in dirittura d'arrivo una battuta testa da parte vostra su quello che ci aspetta per la prossima stagione e che stagione si preannuncia. Gambaccini. Avere la sfera di cristallo sarebbe fantastico. Però avete un po' il polso di come si sta muovendo per quest'anno? Il polso le sensazioni iniziali sono positive sono positive perché l'offerta turistica di Rimini ogni anno si arricchisce di proposte dal punto di vista di eventi dal punto di vista di intrattenimento dal punto di vista anche della commercializzazione anche del territorio. Quello che diceva prima Satinato è assolutamente corretto non possiamo rivolgere le spalle all'entroterra ma dobbiamo vendere anche l'entroterra quindi noi come Rimini Reservation cerchiamo sempre di raccontare tutto quello che succede nel nostro territorio non solo guardando dalla ferrovia verso mare guardando anche l'entroterra le città d'arte San Leo piuttosto che Verucchio piuttosto che San Marino che è un partner commerciale con noi perché i cinesi stessi vedono San Marino come una meta da visitare perché lo stato più piccolo al mondo è il timbro dello stato più piccolo al mondo nel passaporto è qualcosa che stanno ricercando e Santinato? Potrei citarvi un episodio un evento che lo scorso anno abbiamo ospitato qui a Rimini uno dei più famosi blogger cinesi che ha più di un milione e settecentomila follower Shen Wei che è stato per tre giorni a Rimini gli abbiamo fatto vivere dell'esperienza autentica ha fatto un corso di piadina ha fatto un corso di tagliatella ha visitato l'entroterra ha visitato Rimini insolita non è andato al mare non ha fatto la settimana balneare sotto l'ombrellone e lui ha fatto dei reportaggi ha fatto dei post che sono stati visti da milioni di cinesi e ne ha parlato di Rimini in maniera entusiastica ha fatto veramente dei commenti bellissimi di un posto che quando ha visitato Urbino ha visitato San Marino ne ha parlato si voleva addirittura trasferire dicendo che era il posto più bello per andare a vivere ecco forse noi dovremmo in qualche modo scollarci di dosso 40 anni di monocultura balneare e cominciare a guardare quello che noi come consulenti come Timor siamo gli ideatori diciamo del cicloturismo a Riccione abbiamo seguito gli alberghi pionieri che hanno investito su questo mercato che oggi fanno quasi il 45% del proprio fatturato su questo segmento che hanno destagionalizzato che 10 anni fa 15 anni fa non c'era una presenza allora il mercato cresce la domanda c'è e sta nella capacità imprenditoriale di fare del marketing di riproporsi di investire il dato preoccupante qui come dire terminare questo nostro incontro è quel 50% che non ritiene necessario di affrontare e di fare investimenti nel futuro lei ha chiesto come andrà la prossima stagione io rispondo un po' sarcasticamente ironicamente purtroppo andrà bene anche la prossima stagione e dico purtroppo per una ragione molto semplice perché una stagione ancora positiva significa che non farà non spingerà diciamo le imprese ad investire quando parlo di imprese intendo tutto il sistema complessivo dell'offerta dove chiaramente gli alberghi hanno un ruolo determinante nel sistema dell'offerta ma mi riferisco anche al sistema della spiaggia mi riferisco al sistema del commercio ai pubblici esercizi mi piacerebbe tornare ad essere una destinazione che Rimini torni ad essere una destinazione di moda capace di anticipare le tendenze capace di anticipare i tempi le mode e di tornare ad essere una destinazione conosciuta prima di tutto in Europa e poi nel resto del mondo ne avremo le capacità ne avremo le capacità forse manca un po' la voglia la voglia di rischiare di mettersi in discussione di ricominciare siamo stati abituati per gli ultimi 30 anni di campare di rendita perché era molto più comodo come dire guadagnare dando in affitto l'albergo a chi che sia senza investire un euro per riqualificarlo e campare di rendita piuttosto che tornare a fare gli imprenditori mi verrebbe da dire per concludere insomma che fino a qualche tempo fa non avevamo neanche più un aeroporto adesso dovevamo trattarlo come argomento leggendo parte di una notizia sul sito del ponte non c'è tempo però ricordiamo solamente che pochi giorni fa è stato presentato quello che è l'obiettivo del nuovo master plan decennale di Air Riminum la società che ha in gestione trentennale l'aeroporto di Rimini insomma ci sono tanti buoni propositi tra cui quello di una politica di marketing mirata in sinergia con le varie amministrazioni locali si punta la Germania abbiamo detto un milione di euro anche l'aeroporto farà altrettanto tra l'altro ci sono delle diverse destinazioni per questa stagione da e per la Germania e quindi insomma è sicuramente una nota positiva che fino a qualche tempo fa non era più scontata per il nostro territorio quindi tanti buoni obiettivi abbiamo affrontato questa sera ma ce n'è anche uno di cui non si poteva fare a meno per il nostro territorio e Mirko qualcosa ad aggiungere? Insomma vi invitiamo come sempre a consultare tutte le nostre inchieste sul nuovo posto dove potete trovare il sito del Ponte il ponte.com sotto la categoria Tutto rimini economie e poi vi invitiamo come sempre a consultare la nostra pagina Facebook del mensile 3 e a segnalarci le vostre storie Grazie per essere stati con noi Ivan Gambaccini di Rimini Reservation Mauro Santinato di Teamwork Mirko grazie anche a te e a tutti voi che ci avete seguito continuate a seguirci qui sulle frequenze di Caro TV Buonasera Grazie a tutti Buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti Buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti